Eccoci qui, ci troviamo sempre al Gran Galà di Beneficenza, adesso ci avviciniamo. Salve, eccoci qui, ci troviamo con Patrizia Merigliani e a questo Gran Galà di Beneficenza, un cuore per tutti, tutti per un cuore. Sì, è un grande piacere, io sono amica di Vopulcini da tanti anni, seguo questa manifestazione e questo bel gesto sociale che fa ogni anno, quindi sono piacere di essere qui, sono anche con Miss Italia qui che è già entrata e insomma la bellezza e il sociale continuano a stare vicini. Ecco, questo è importante, abbiamo infatti già visto Miss Italia 2014 e poi ricordiamo appunto che il dottor Vopulcini è anche medico di Miss Italia. Sì, è il medico ufficiale di Miss Italia. Ecco, vogliamo dare qualche anticipazione su Miss Italia, qualche news? Beh, per il momento la prima news è che è stata eletta la prima Miss dell'anno che è romana ed è una Curvy, che credo che sia una cosa molto carina, parliamo subito di benessere, di salute e di allegria perché mangiare fa bene, ci tira su e ci aiuterà a vivere questo nuovo anno in una maniera ancora più leggera e più simpatica. Ecco, abbiamo visto una grandissima partecipazione, invece ritornando su questo evento, molte partecipazioni, c'è un grandissimo afflusso e ancora stanno venendo moltissime persone. Sì, stanno arrivando tante persone, questa è la grande comunicativa di Ivo, che è una persona speciale e il tema legato ai bambini che è sempre un tema di grande attualità. Certo, la cardiologia è importante, soprattutto lì dove è ancora più difficile, nel terzo mondo e tutti gli altri paesi lontani. Dare speranza ai bambini di vita è importantissimo perché il nostro futuro sono i bambini, le donne e i bambini. Perfetto, io la ringrazio e le faccio tantissimi auguri. Grazie. E buon anno.